ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube e nel mio piccolo laboratorio oggi vi farò la recensione della stampante 3d focus odin 5 f3 una stampante 3d particolare per il sistema di montaggio e anche per la confezione infatti forse è l'unica stampante 3d che arriva con questa scatola così illustrata si trova ovviamente online con prezzi che oscillano da 250 a 350 euro in base al sito internet eccetera sul sito del produttore per adesso c'è un'offerta che pare che sia 289 dollari quindi circa 250 euro su amazon invece è 350 euro 359 devo vedere ci sono dei codici di sconto disponibile eventualmente e ovviamente come sapete su amazon ci sarebbe la garanzia della possibilità di reso tutti i vantaggi degli acquisti su amazon comunque vi lascio i vari link e poi valutate voi un sistema direct drive facilissima da montare perché l'arco dell'asse z è ripiegato basta ridrizzarlo con due vite a destra e due vite a sinistra si monta veramente in forse 3 4 minuti questo video però sarà particolare perché alcune riprese verranno fatte qua all'interno del mio laboratorio altre riprese invece verranno fatte all'interno del mio studio per questione di impegni e di tempo personale ho dovuto organizzarmi in questo modo quindi adesso vedremo questo video dell'unboxing ovviamente il tutto accelerato il video del montaggio e poi guarderemo ver bene da vicino come è fatta la stampante e ovviamente anche le stampe che ho ottenuto iniziamo ciao 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 per l'alimentazione elettrica è il tasto di accensione e spendimento il piatto di stampa è in vetro micro forato ed è possibile rimuoverlo staccando queste clip metalliche sulla parte bassa del piatto di stampa come vedete abbiamo le rotelline con le relative molle e queste ci serviranno per fare il livellamento del piatto andiamo quindi in alto raggiungiamo l'estrusore come vedete si tratta di una stampante direct drive questo è il nostro estrusore ovviamente all'interno c'è anche il sensore di fine filamento e questo rende la stampante adatta anche a stampare filamenti come tpu e altri filamenti flessibili guardate com'è ordinata e come non ci siano assolutamente cavi in giro infatti hanno adottato questo sistema che rende la stampante è molto ordinata molto pulita ma soprattutto facile e rapido da montare e questo tipo di collegamento lo troviamo sia sulla parte alta che in basso quindi davvero tutto molto ordinato guardando la parte posteriore troviamo l'unico cavo che ci serve a portare l'alimentazione al piatto di stampa quindi per riscaldarlo e in questa posizione possiamo vedere pure la cinghia dentata che ci consente di farlo scorrere per quanto riguarda invece il movimento dell'asse z abbiamo un doppio motore che ci permette un sollevamento sincronizzato con dei movimenti molto precisi tutto scorre su queste ruote gommate che hanno anche un dato centrico e questo ci permette di regolare quindi quando debbono essere vicine ai vari profili per evitare i movimenti indesiderati e sulla parte alta troviamo il reggibobbina che porta il filamento direttamente all'esclusore questo è sensore di fine corsa dell'asse y invece qua in basso troviamo il sensore di fine corsa dell'asse z qui indietro invece troviamo il classico sensore di fine corsa a interruttore per quanto riguarda l'asse y tra poco guarderemo anche il menù di questa stampante ma non prima di avere guardato per bene i pezzi che ho stampato allora non mi nascondo che inizialmente ho avuto un po di difficoltà non riuscivo a capire cosa stesse succedendo perché ho provato a stampare questo vaso e guardate all'interno cosa si è creato pieno i filini non riuscivo a capire da cosa potesse dipendere quindi ho stampato una beggi è avuto praticamente lo stesso risultato a questo punto ho contattato il venditore che mi ha dato dei consigli per quanto riguarda i parametri frattempo però avevo fatto un altro paio di esperimenti cercando di ridurre questo fenomeno in poche parole questa stampante richiede ben 10 mm di ritrazione sinceramente non mi era mai successo di dover dare 10 mm di ritrazione soprattutto ad una stampante direct drive ma effettivamente facendo le prove successive come potete vedere sono riuscito a stampare dei pezzi che mi piacciono davvero tantissimo guardate questo superman è venuto davvero molto bene la superficie è buona mi piace la qualità si vedono ancora alcuni residui dei supporti scusatemi se non li ho rimossi correttamente però come potete vedere la stampa è riuscita molto molto bene guardate anche in questa zona come ricorderete in diversi superman che ho stampato in queste zone si formano delle volature invece è venuto praticamente perfetto stesso per quanto riguarda il primo layer è venuto davvero bene si vede la trama del piatto di stampa quindi a questo punto ho deciso di stampare un altro vaso questa volta molto più grande infatti abbiamo un vaso di 18 centimetri che è venuto stampato perfettamente non si vede assolutamente streaming quindi diciamo che il difetto riscontrato inizialmente è totalmente sparito quindi su questa stampante la ritrazione deve essere assolutamente di 10 mm come nel caso del vaso che esternamente è venuto bene ma all'interno è una vera e propria regnatela ma come abbiamo visto nulla che non si possa risolvere quindi adesso accendo la stampante e guardiamo anche il suo menù e allora ragazzi ho spento la luce per poter vedere meglio il menu perché c'erano troppi riflessi e quindi non riuscivo assolutamente ad inquadrare il display allora speriamo dalla messa a fuoco mi aiuti proviamo a vedere i vari comandi allora la prima voce è quella strumento e all'interno troviamo diverse possibilità di interagire con la stampante quindi per esempio il pre riscaldamento possiamo lavorare sul riscaldamento del piatto di stampa oppure dell'estrusore questo invece è il tasto di comando per quanto riguarda l'estrusore più avanti troviamo invece il comando per muovere i vari assi e anche in questo caso possiamo decidere se muoverli di 01 un millimetro oppure 10 mm il tasto home che porta appunto il punto 0 i vari assi e questa invece la voce per il livellamento che adesso vedremo questo è il comando per il filamento quindi per inserire oppure estrarre il filamento il tasto di più invece è vuoto quindi la voce imposta invece ci dà la possibilità di agire sul wifi la ventola avere informazioni sul firmware eccetera continuare eventuali stampe impostazioni sulla macchina spegnere motori e cambiare il linguaggio come vedete però la lingua in questo caso impostato in italiano però ci sono qualcosa è ancora scritto in inglese per esempio machine setting eccetera qualcosa è tradotto in modo non perfetto però comunque si capisce perfettamente auto carica invece ci darà la possibilità di inserire il filamento abbiamo diverse voci che riguardano appunto il filamento sul menu stampa invece ci appaiono i file che possiamo scegliere e quindi avviare la stampa e allora ragazzi ho reaccesso la luce purtroppo forse perché non ho rimosso la pellicola protettiva c'è questo riflesso che rende opaco il display in realtà guardandolo dal vivo non lo percepisco come lo percepisco adesso nella ripresa però comunque proseguiamo guardiamo come funziona il livellamento non è un livellamento automatico ma si muove automaticamente nei punti che vogliamo livellare abbiamo la possibilità di spostare il nodo nei quattro angoli e poi anche nel punto centrale quindi iniziamo spostandolo direttamente nel primo punto come vedete inizia a muoversi adesso si sta muovendo anche il piatto di stampa si abbassa l'asse z fino a raggiungere il piatto di stampa come avete visto quindi il nodo va a posizionarsi nel primo punto per consentirci il livellamento non ho messo il foglio di carta ovviamente perché non devo fare un vero e proprio livellamento mi interessa più che altro farvi vedere i movimenti però ripensandoci a che ci siamo facciamo una simulazione quindi premo nuovamente in questo caso si solleverà e si riabbasserà il nodo dandomi la possibilità di inserire il foglio a questo punto dovrei avere una distanza tale che mi permetta di fare scorrere il foglio sentendo una leggera resistenza quindi il nodo che gratta sullo stesso e per fare questo devo avvitare o svitare in base alla necessità quindi la distanza che abbiamo queste rotelle in basso in questo caso sento una resistenza un po eccessiva abito ancora un poco in questo modo invece è molto libero quindi devo regolare tanto quando basta ok secondo me questa è la resistenza giusta che deve avere in base a come sono abituato io a fare il livellamento dove che possiamo spostare negli altri angoli e fare la stessa prova anche nel punto centrale a questo punto se avessi fatto la regolazione delle rotelle mantenendo la distanza corretta con il fogliettino di carta avrei il livellamento eseguito in modo perfetto e potrei avviare la mia stampa a questo punto se avessi fatto la regolazione di carta avrei il livellamento eseguito in a questo punto se avessi fatto la regolazione di carta avrei il livellamento eseguito in alla prossima I am a perfect 10 I am a perfect 10 I am a, yeah Yeah, I'm disgusted with myself And I'm disgusted with the way We're told to have a certain face A certain weight before us We are in pixels on a screen No, we're human, we breathe Every single thing we see curated It's overrated These expectations, they keep weighing me down My heart is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute and pretend Honey, I'm a perfect 10 Whoa Honey, I'm a perfect 10 Whoa And if I say it enough It gets ingrained in my head And I start to think Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Whoa Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Whoa 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 Honey, I'm a perfect 10 Whoa 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 E allora ragazzi, io ho finito quindi con la recensione di questa Focus Odin. Abbiamo visto una stampante che alla fine è impostata correttamente secondo i consigli del venditore, quindi 10 mm di retrazione, riusciamo ad ottenere dei buoni risultati. Inizialmente mi stavo preoccupando, cosa dire? Secondo me come stampante è valida, facile da montare, facile da utilizzare con un menù completo che ci permette di dare diverse impostazioni e anche in italiano, quindi adatta a tutti, anche ai principianti che effettivamente con un menù in inglese potrebbero trovarsi in difficoltà. La facilità di montaggio, la facilità di utilizzo, la compattezza e i risultati che si riescono ad ottenere sono dei punti di forza per questa stampante che effettivamente mi è piaciuta tantissimo. Detto questo non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere il mio piacere al video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto! Grazie!